Mentre il centro-sinistra ha da tempo avviato la sua campagna elettorale, nel fronte moderato si discute ancora sugli assetti della maggioranza, sui posti da spartire e sulle poltrone da dividere, sul vice-sindaco, chi sarà e chi non sarà, e sulle municipalità. Insomma, anche un pragmatico ingegnere come Di Paola, dopo aver corso in lungo e in largo per i quartieri cittadini, soprattutto abituato a gestire gli aeroporti, comincia ad avere le tasche piene. La coalizione che lo sostiene, volendo utilizzare una metafora, è come un Boeing i cui motori rullano ormai da tempo sulla pista, ma dalla torre di controllo ancora nessun segnale per il decollo, mentre i passeggeri cominciano a spazientirsi. Probabile che, sempre per la metafora, le condizioni meteo nei cieli del centro-destra non siano delle migliori, fra turbulenze e vuoti d'aria. Ieri sera sul tavolo, che sembra più quello delle sedute spiritiche, si sono seduti tutti gli alleati. Non si sa se per evocare il fantasma del plenipotenziario fitto che incombe sulla Puglia e tra poco anche in Europa, o per decidere altro. Il maggior quotidiano pugliese questa mattina titola Bozza di Accordo nel centro-destra, ma di bozze ce ne sono a Iosa, negli scaffali di Di Paola. E adesso bisognerà attendere il 7 aprile per capire se accordo definitivo ci sarà oppure no. Dopo quattro ore, passate sotto il faro, in una domenica primaverile a pochi metri dal quartier generale di Di Paola, le forze della coalizione hanno sottoscritto quattro punti fondamentali per l'accordo. Unità della coalizione, come se fosse necessario mettere l'argomento a verbale, vice sindaco Filippo Melchiorre di Fratelli d'Italia, tanto per mettere i puntini sulle I, una grande manifestazione unitaria da organizzare a Bari con i volti sorridenti è, vero motivo di litigi e divisioni, la spartizione dei municipi cittadini. Al bando, dunque, il manuale Cencelli, la scelta dei candidati va fatta in base al rinnovamento, consenso, genere e competenza. Insomma, tanta melassa e aria fritta. Unico partito non firmatario è il nuovo centro-destra di Massimo Cassano, che si è riservato di consultare il comitato cittadino. Nell'attesa, il partito di Alfano, per la millesima volta, invia a Di Paola rose rosse, giurando fedeltà al candidato sindaco, ma lo scoglio più grosso rimangono le municipalità. E a proposito di scogli, bene ha fatto il centro-destra a scegliere il faro, potendo evitare un clamoroso naufragio.